Oggi in una sede della Lega c'era scritto Lega Ladrona. Beh, se io fino adesso conosco solo Roma Ladrona, non Roma dei cittadini romani ovviamente. La Lega può dare lezioni di onestà a tutta la politica italiana. E se le accuse nei confronti di Boni dovessero essere fondate, cosa cambia in Lega? Io non lo voglio neanche pensare, se così fosse ne traremo le ovvie conseguenze. Hanno sospeso me per 90 giorni, per un sacco di tempo, per mezza frase, si figuri uno che venisse cuccato a fare delle cose zozze. Potrebbero tornare utili finalmente tutte le leggi a favore di Berlusconi che gli avete votato? No, ma noi non abbiamo votato leggi a favore nostro. Ho sentito giustamente dei commenti indignati per quella interpretazione che voleva essere comica del signor Crozza che ha preso di mira certi leggeri fetti di pronuncia, credo, o aspetti del fisico di Umberto Bossi. E queste cose ci fanno pensare che certe persone non appartengono alla razza umana. Questo è quello che mi fa male in questo momento. La vicenda dei Boni non mi desta a grandi preoccupazioni.